Questi segnali spesso arrivano durante il percorso della vostra vita, offrendovi una guida e intuizioni sulla vostra consapevolezza spirituale. Spesso questi segnali vengono dal vostro angelo custode o da un regno spirituale, cioè un mondo fisico dove risiedono i vostri angeli custodi, o durante un percorso di vita, un viaggio che state percorrendo, o spiritualmente, o praticante. Le sequenze dei numeri doppi possono avvenire tramite le targhe, quindi leggendo una sequenza di numeri su una targa, e quindi c'è questa sequenza, e possono indicarti che sei sulla strada giusta, o attraverso dei numeri di telefono. I numeri di angelo spuntano ovunque e in qualsiasi momento, o attraverso delle prenotazioni, e questo suggerisce nuove opportunità, o come ho detto prima, attraverso orologi digitali. Ecco un approfondimento su dei numeri comuni, che spesso contengono uno stesso numero. Iniziamo con 1, 1, 1.